Oltre 25.000 litri di carburante erogati per le imbarcazioni da di porto di Giulianova, un chiaro segnale che l'attività di portistica sta crescendo e che il porto giuliese attrae sempre più amanti del mare. Crescono infatti le richieste per un ormeggio, anche se i posti sono ormai tutti occupati. Restano solo i punti di attracco riservati alle imbarcazioni di passaggio, che scelgono Giulianova per la sosta di uno o due giorni, giusto il tempo necessario per rifornire la cambusa e riempire i serbatoi di carburante. Dall'inizio della stagione gli ormeggi destinati ai natanti di passaggio sono stati occupati complessivamente una sessantina di volte. Questo grazie al fatto che la riattivazione del punto di distribuzione di carburante ha permesso a questo servizio di essere segnalato sul portolano nautico, ovvero il manuale nazionale per la navigazione costiera che viene aggiornato costantemente. Per il presidente dell'ente porto Valentino Ferrante, che all'indomani del suo insediamento si era prefissato l'obiettivo di riattivare il servizio distribuzione carburanti, si tratta di un risultato importante, anche perché nel porto di Giulianova stanno tornando imbarcazioni da di porto a motore o a vela superiori ai 20 metri di lunghezza. Un bel segnale di ripresa che lascia ben sperare in ottica futura anche per il settore peschereccio. L'obiettivo in questo caso è riportare un buon numero di barche adibite alla pesca del pesce azzurro e allo strascico.